Sta Kaiser di barca davanti, è entrato male? Sì, attenzione esce, saluta e a questo punto siamo nelle mani della giuria, lui ovviamente dall'ok è soddisfatto e come si diceva è altissimo 5.7, vediamo bene in questo momento anche lui chiaramente in attesa della giuria, attenzione 6.6, 5.5 secondi, attenzione, 4.49.35 per lui